Milano Pavia News edizione Pavia, buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Un 77enne morto a Pavia dopo essersi buttato dal quarto piano per fuggire da un incendio scoppiato nel suo appartamento al Crosione. Una storia drammatica di solitudine e sofferenza. Letizia Moratti ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente della regione. Un terremoto politico che era in parte atteso, Fontana però non si scompone e nomina Bertolaso, nuovo assessore al welfare. I carabinieri di Vigevano hanno salvato un 56enne che voleva suicidarsi buttandosi dal ponte del Ticino. Un militare è riuscito a prenderlo per il giubbotto prima che si lanciasse nel fiume. Pavia è una delle province dopo Lodi, Napoli e Bergamo con il più alto tasso di mortalità per tumore. Lo rivela uno studio svuoto da alcune delle più autorevoli università italiane. Anche la curia di Pavia deve fare i conti con il caro Bollette. In Duomo le luci verranno spente più spesso per cercare di abbassare i consumi, previste anche messe nella cripta per risparmiare. Questi titoli della giornata, un'ampia pagina di cronaca in apertura del nostro Tg. Lo avete sentito dal sommario di questa drammatica vicenda avvenuta ieri mattina a Pavia. un pensionato che per cercare di fuggire da un incendio scoppiato nella sua abitazione si getta dalla finestra al quarto piano e muore cadendo al suolo sul posto. Per noi questa mattina c'era Mario Fortunato che ha cercato di intervistare i residenti della zona per capire, per tratteggiare un quadro più chiaro di quella che è una drammatica vicenda purtroppo legata anche a doppio filo alla solitudine. E' quella al quarto piano, la finestra da cui si è buttato ieri pomeriggio Girolamo Varotto, il pensionato di 77 anni che per sfuggire all'incendio divampato nel suo appartamento ha tentato questo estremo gesto. Vediamo qui sotto, proprio sotto l'appartamento, i resti bruciati di ciò che c'era all'interno dell'abitazione, una poltrona, un tavolino, alcuni elettrodomestici, si possono vedere tra le carcasse, diversi vestiti, tutti bruciati. E' ancora molto forte l'odore qui nei resti ai piedi di questa palazzina comunale di Piazza Lecrosione. A poco più di 24 ore da quel drammatico salto nel vuoto emerge con chiarezza una storia di solitudine e sofferenza. Girolamo Varotto abitava in questo alloggio popolare ma nessuno sapeva molto di lui nel quartiere Crosione, periferia nord-est del capoluogo. Una fine tragica causata forse da una candela, qualcosa che ha trasformato l'enorme quantità di giornali che conservava in casa, in fuoco e fiamme. Tra i primi a sentire lo scoppio dall'abitazione al quarto piano, il compagno di questa donna. Anche una storia di solitudine. Che era solo, sempre solo e mi hanno raccontato che è caduto in mutande in canotta, basta. Poi sono arrivati i pompieri e basta. Non so altro perché non ero presente. Scusate, posso chiedervi se voi conoscevate il signore? Purtroppo ieri non l'ha sentito. No, no, noi abitiamo qua però abbiamo saputo della parte di là, però abbiamo saputo della cosa perché abitando qui, via vai di sirene, pompieri e via, allora siamo venuti a vedere, abbiamo saputo anche noi di questa persona che ha... però non lo conoscevamo, ecco. Pur abitando in zona, fra l'altro stavo parlando con loro e non riusciamo a ricordare questa persona. Abbiamo visto soltanto i Vigili del Fuoco e nient'altro, basta. Lo conoscevate? Pare fosse un uomo piuttosto solo. No, no. La Vigevano invece, per fortuna, ha una storia che ha avuto un lieto fine. Un uomo che cerca di suicidarsi buttandosi dal ponte sul Ticino. Sul posto però intervengono i carabinieri. Uno dei militari riesce a prenderlo per il giubbotto prima che cada nel fiume. Il gesto eroico di un carabiniere ha permesso di salvare una vita la mattina del primo di novembre sul ponte sul Ticino di Vigevano. Erano circa le 11.30 quando un uomo, poi identificato in un operaio di 56 anni, si era avventurato a piedi sul viadotto con l'intenzione di buttarsi nel vuoto. Un passante ha avuto la prontezza di spirito di comprendere cosa stava accadendo e ha composto il numero di emergenza 112. L'operatore della centrale ha avvisato i carabinieri e nel giro di tre minuti giungeva sul posto una pattuglia della sezione radiomobile. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno trovato il 56enne già oltre il parapetto. Si stava tenendo con una sola mano, pronto a gettarsi. I militari non hanno esitato, afferrando l'uomo per il giubbotto e rischiando di venire però trascinati a loro volta nel fiume. Vista la situazione, era ormai quello l'unico modo per salvare la vita all'operaio, che stava lasciando anche l'ultimo appiglio che lo teneva con la mano al parapetto. L'uomo è stato afferrato con forza e portato in zona di sicurezza. Il 56enne era in stato confusionale, ma stava bene. I militari lo hanno affidato alle cure dei soccorritori di Areu, i quali lo hanno portato in ospedale per i controlli del caso. Parliamo d'altro adesso, passiamo alla politica. La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è dimessa dal suo incarico questa mattina, ha spiegato che è venuto o meno il rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana, una decisione che ovviamente ha scatenato tante polemiche politiche. Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e assessore al welfare. Con queste parole, diffuse mercoledì mattina in una nota alle agenzie di stampa, Letizia Moratti ha annunciato quello che ha definito un forte segnale rispetto alle lentezze e le difficoltà nell'azione di questa amministrazione che, a mio avviso, non risponde più all'interesse dei cittadini lombardi. La decisione di Moratti, attesa da tempo negli ambienti della politica, è stata classificata dalla stessa come una scelta di chiarezza, di cui mi faccio pienamente carico, aggiunto, anche in considerazione dei provvedimenti contradditori assunti in materia di lotta alla pandemia, determinanti dunque per Moratti non solo le vicende regionali, ma anche le recenti decisioni del governo Meloni sul reintegro dei medici e degli altri lavoratori della sanità non vaccinati, oltre al condono delle multe ai Novax e la diversa sensibilità sull'importanza dei vaccini, questioni che Moratti ha detto di non condividere e di registrare con preoccupazione. Nel primo pomeriggio di mercoledì è giunto il commento del governatore Fontana che, nell'annunciare il passaggio delle deleghe di Moratti a Guido Bertolaso, ha lanciato una stoccata verso la sua ex vice. È chiaro che guarda a sinistra, ha detto Fontana, e non da oggi. La notizia delle dimissioni di Moratti ha spinto poi una prima mobilitazione delle opposizioni e se il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è chiesto se questa vicenda andrà a minare anche il precario equilibrio del centro-sinistra, addombrando forse una possibile candidatura della Moratti nel PD, partito che peraltro ha smentito categoricamente queste ipotesi, così il consigliere regionale pavese Giuseppe Villani. L'ennesima dimostrazione del fallimento del centro-destra in questa regione. Insieme a questo, il riprescaggio di Bertolaso dimostra proprio che Fontana ormai deve raschiare il parico. Turissimo invece il commento dei Cinque Stelle che hanno parlato di farsa in quanto Moratti sarebbe stata chiamata a salvare il centro-destra dai disastri del duo Fontana-Gallera, mentre lo stesso governatore Fontana avrebbe preso l'ennesimo ceffone e ora dovrebbe soltanto dimettersi. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Vigevano, dove da tempo si discute della possibilità di eliminare i passaggi a livello in città, una possibilità su cui si è interrogato anche il nostro Paolo Barni con il prossimo servizio che vi mostreremo. In città tra l'altro dovrebbero partire proprio dei lavori di RFI sui passaggi a livello, ma i cantieri al momento non sono ancora stati aperti. Annunciata per lunedì scorso, la chiusura per lavori dei passaggi a livello di Vigevano non è ancora avvenuta. RFI non ha dato più comunicazione e i cittadini circolano senza sapere fino a quando i passaggi saranno accessibili. I cantieri in ogni caso dovrebbero durare circa una settimana e riguarderebbe i passaggi a livello di Corso Milano, Via Matteotti e Via Santa Maria. Rimarrà sempre aperto quello di Corso Pavia. La città si troverà così a provare l'esperienza di restare senza passaggi a livello, dovendosela cavare con gli attuali sottopassi e cavalcavia. Sarà l'occasione per i Vigevanesi di comprendere quanto la viabilità cittadina sia effettivamente condizionata dalla presenza della ferrovia. Da tempo si parla di come eliminare i passaggi a livello, una condizione richiesta per un eventuale raddoppio dei binari. Sul tavolo esiste una proposta vecchia ormai di una decina d'anni. Proviamo a seguirla. Prevedeva di sostituire i passaggi a livello di Corso Pavia e Via Matteotti con un cavalca ferrovia tra Via Gobetti e il parcheggio della stazione. Questa è l'area in cui il progetto di una decina d'anni fa, o perlomeno l'idea di progetto di una decina d'anni fa, collocava un'ipotesi di cavalcavia. Perché? Perché c'è spazio, c'è tanto spazio sia da una parte che dall'altra della strada ferrata. Qui siamo in Via Gobetti, da una parte, dall'altra si atterrerebbe nell'attuale parcheggio della ferrovia e questo veniva individuato come l'unico luogo nel centro di Vigevano in cui c'era lo spazio per poter costruire un'opera come un viadotto ferroviario oltre a quello già esistente che è il cavalcavia La Mamora. Il problema però è poterci arrivare qui. Lo spazio per il cavalcavia c'è, lo spazio per l'accesso non c'è. Questa sarebbe stata la strada principale di accesso, che è molto stretta, è via Gramsci, qui c'è anche una scuola. È una strada a senso unico e vedete che non ci sono neanche i parcheggi. Questo è l'imbocco dall'altra parte, diciamo, di quell'area dove si era ipotizzato dieci anni fa di costruire un cavalcavia. Anche questa è molto stretta, è a doppio senso, ma quando si incrociano due vetture già ora si arriva a situazioni molto pericolose. Qui c'è l'altro passaggio a livello, quello di Via Matteotti. Il progetto di dieci anni fa prevedeva una sua chiusura ma con un ipotetico, magari, sovrappasso pedonale anche a servizio dell'ufficio postale che c'è proprio qui. Per Corso Milano invece l'ipotesi era quella di un sottopasso, seppur con una grossa difficoltà tecnica. Il problema nell'evitare questo passaggio a livello, magari con un sottopasso, sta in una roggia, un corso d'acqua che scorre proprio qui a pochi metri e facendo un sottopasso, vedete questo è il corso della roggia, si dovrebbe passare anche sotto questo corso d'acqua e verrebbe quindi un sottopasso lunghissimo. Negli ultimi dieci anni non si sono fatti nuovi progetti per ipotizzare l'eliminazione dei passaggi a livello. L'obiettivo è stato inserito nella revisione del piano di governo del territorio, tuttora in corso. La città nel frattempo ha continuato a chiedere il raddoppio della ferrovia senza però creare un vero dibattito su una delle sue principali conseguenze, ossia la necessità di eliminare i passaggi a livello. Cambiamo decisamente argomento. Secondo uno studio effettuato da diverse università italiane, Pavia è la provincia con il più alto tasso di mortalità, una delle province con il più alto tasso di mortalità in Italia per tumore. Lo studio voleva dimostrare proprio la correlazione tra inquinamento ambientale e mortalità dovuta ai tumori. Pavia è una delle province con il tasso più alto di mortalità in Italia per tumore, prima in questa triste classifica ci sono soltanto Lodi, Napoli e Bergamo. È quanto emerso da uno studio svolto da alcune fra le più autorevoli università italiane che hanno preso in esame i dati del decennio fra il 2009 e il 2018 con l'obiettivo di dimostrare una correlazione fra inquinamento ambientale e mortalità a lungo termine. I risultati pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment hanno confermato in modo inoppugnabile questa tendenza. La mortalità per tumore supera la media nazionale, soprattutto dove l'inquinamento ambientale è più elevato e viene mitigata poco o niente dal fatto di vivere in zone in cui le abitudini di vita sono più sane. Ma purtroppo ci siamo fatti quell'idea che dà una conferma di quello che è un quadro che timavamo essere in queste condizioni e che era comunque anche in buona parte conosciuto. C'è il caso chiaramente che è eclatante, che è quello di Brony, cioè quello collegato all'ex fibronite e quindi a tutti i tumori da mesotelioma che derivano da quella che era la fabbrica dell'Eternet, ma abbiamo anche una diffusione territoriale che è perlomeno preoccupante perché comunque conferma, soprattutto nella fascia coltivata a viti e poi nella zona delle risa e della rumellina, che l'uso negli anni scorsi, negli decenni scorsi, di sostanze chimiche in maniera massiccia ha comportato comunque una recrudescenza dei tumori. Stabilire che ci sia una connessione ormai è un dato di fatto. Poi l'incidenza vera e propria nello sviluppo del tumore è chiaramente un qualcosa che lasciamo agli accademici, ma ci limitiamo come legambiente a vedere che sul territorio, in queste zone, abbiamo comunque un'incidenza di tumore che è molto ma molto più alta che in altre zone della stessa provincia. Al di là del caso limite di Broni, dove la correlazione fra esposizione all'amianto e tumore specifico è talmente evidente da non suscitare alcuna sorpresa, le cause all'origine della malattia sono più sfumate, anche se non per questo meno pericolose in altri casi. Nello studio gli esperti hanno preso in considerazione 35 fonti ambientali di inquinamento, come industrie, pesticidi, inceneritori, traffico automobilistico, rilevando che alla fine, tra queste, la qualità dell'aria è il primo posto per importanza per quanto riguarda l'associazione col tasso medio di mortalità per cancro, come ha spiegato Roberto Cazzola Gatti, professore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. Passiamo ora a parlare di caro energia e caro bollette, un tema che tocca davvero tutti, lo dimostra il caso eclatante del Duomo di Pavia, anche qui ovviamente bisogna cercare di risparmiare, perché le spese per l'illuminazione sono davvero alte, allora si cerca appunto di limitare l'accensione delle luci, ma il parroco del Duomo ha spiegato che si faranno anche delle messe nella cripta, ovviamente che è più piccola, per cercare anche qui di risparmiare sulle bollette. Anche il Duomo di Pavia deve fare i conti con i rincari delle bollette, del resto basta osservare questi enormi e maestosi spazi per immaginare quanto possa costare riscaldare ed illuminare ogni angolo. Occorre dunque moderazione, come sottolineato dal parroco della cattedrale, Don Gianpietro Maggi. Sarà proprio un po' così, dovremmo moderarci circa l'utilizzo della elettricità, ma sarà la luce dello spirito che ci illumina e che ci raduna attorno all'altare del Signore. Certo, tutto in maniera più essenziale, perché le previsioni ci fanno calcolare con prudenza e parsimonia quella che sarà anche la gestione degli spazi interni della cattedrale. L'illuminazione a LED e le ampie aperture nella cupola del Duomo aiuteranno a garantire un po' di luce a basso costo, visto che per la maggior parte della giornata l'impianto resterà spento per cercare di abbassare i consumi. Per questo il parroco chiede comprensione ai fedeli. D'altro canto siamo persuasi che anche la Chiesa in questi momenti sta condividendo con tutto il popolo santo di Dio tante fatiche, comprese quelle della gestione immediatamente più familiare per quanto riguarda le spese domestiche, penso appunto alla luce e al gas. In queste settimane inoltre stanno terminando i lavori di restauro della cripta bravantesca, uno spazio più raccolto e facile da illuminare e riscaldare. Proprio qui verranno celebrate le messe nei giorni feriali per evitare l'utilizzo degli ampi spazi della cattedrale. La cripta della cattedrale sarà ottimizzata per le celebrazioni per lo più feriali. Alla domenica si confiderà nella comprensione della gente, anche se non ci sarà quel tepore che forse ci si aspetta, ma ci si farà riscaldare dalla parola e dai sacramenti che andremo a celebrare. Anche la Casa della Carità di Mede si aspetta un inverno, un autunno difficili, soprattutto per le persone più fragili, per quelle più in difficoltà. In questa struttura gestita dalla Caritas vengono assistite decine di famiglie. Alla Casa della Carità di Mede ci si attrezza in vista di un inverno che si annuncia difficile. Nella struttura della Caritas vengono forniti indumenti, aiuti alimentari e ai bisognosi residenti a Mede e nei comuni limitrofi. Attualmente sono assistiti circa 60 nuclei familiari. Gli effetti della crisi, ci racconta il parroco Don Renato Passoni, non si sono per ora avvertiti, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. In questi tempi stiamo aiutando 90 nuclei familiari che consta di 256 persone. Non c'è stato proprio un aumento significativo, ma guardando la crisi economica in atto, la guerra in corso, pensiamo che la realtà possa aumentare nei numeri e anche nelle necessità. La Casa della Carità di Mede abbina all'assistenza materiale a un punto di ascolto per fornire alle famiglie un aiuto che sappia di vicinanza. Proprio dallo sportello ascolto arriva il primo contatto che permette di individuare i bisogni. Chi chiede di essere aiutato passa dal centro d'ascolto dove alcune persone si fanno l'idea di quali siano i bisogni, le necessità, le problematiche, perché si possa entrare in empatia, si possa far capire che il tuo problema è il nostro problema, le tue gioie sono le nostre gioie, le tue angosce, le tue ansie possono essere alleggerite dalla comunità cristiana e non che li trova come punto di riferimento, proprio perché è una casa, un aiuto e un supporto anche morale. Mede si trova al centro di un territorio, quello Lomellino, dove continua a sentirsi il problema della dipendenza da gioco d'azzardo. Ecco quindi che Parrocchia e Caritas hanno da tempo inserito l'assistenza ai ludopatici e ai loro familiari tra i servizi proposti dalla Casa della Carità. È presente anche un gruppo di aiuto per gli alcolisti, un fenomeno spesso sottovalutato ma tuttora presente. C'è il martedì sera, si incontrano gli amici del CAT, Club Alcologico Territoriale, per un aiuto, una terapia di gruppo sulla dipendenza dall'alcol. Purtroppo sappiamo che nella nostra provincia anche il gioco d'azzardo è molto incrementato e stiamo incontrando anche persone che hanno problematiche del genere e come sappiamo coinvolgono non solo chi gioca ma anche i familiari e gli amici di queste persone. Una notizia che riguarda i cittadini di Vigevano. L'ufficio per la scelta erevoca del medico di base dell'ospedale della città ducale sarà presto trasferito in sala Pertini. I comuni ASST hanno raggiunto un accordo per l'utilizzo temporaneo della sala situata nella palazzina ex gas di via Leonardo da Vinci. Lì ASST allestirà gli uffici per la scelta erevoca del medico di base spostandosi dall'attuale sede nell'atrio dell'ospedale che in passato aveva creato problemi a causa degli spazi angusti. L'accordo tra Comune e ASST è valido fino alla fine del 2023 con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi. L'attivazione del nuovo ufficio in sala Pertini è prevista per la fine di novembre. Adesso ci spostiamo in Oltrepo dove anche Casteggio si prepara alla rivoluzione della differenziata. In centro partirà a breve il porta a porta ma ci sono novità anche per le vie più periferiche. Dopo Voghera, Broni e Stradella anche Casteggio, quarto centro più popoloso dell'Oltrepo si prepara a dare il via tra pochi giorni a un nuovo sistema di raccolta differenziata più spinta con un sistema misto che coniuga il metodo porta a porta adottato da Broni e Stradella con quello delle isole ecologiche di Voghera e così a partire da lunedì prossimo nel centro del Comune spariranno tutti i cassonetti di rifiuti che si dovranno a dividere e conferire in piccoli contenitori o sacchetti e saranno ritirati dagli addetti dell'ASM. Nelle periferie, al contrario, i cassonetti rimarranno ma almeno quelli dell'indifferenziato si apriranno soltanto con una tessera fornita dal Comune. L'obiettivo è passare dall'attuale 32,7% di rifiuti differenziati ad almeno il 65% previsto dalle norme per i Comuni. Una soglia raggiunta è superata da tempo da moltissimi centri in Lombardia ma ancora da pochi in oltre pochi. Un territorio che si classifica, salvo rare e lodevoli eccezioni, all'ultimo posto in provincia di Pavia. A sua volta Fanalino di Coda con il 58% di differenziata in una regione che, al contrario, è tra le più virtuose d'Europa con una media, dati sempre del 2020, del 73,3% e un quinto dei Comuni che supera tranquillamente l'80%. Sono previsti nuovi lavori, nuovi cantieri sulla tangenziale di Pavia in particolare sullo svincolo verso Bereguardo lavori che proseguiranno fino a venerdì con chiusure anche sulle varie uscite quindi bisogna fare attenzione per non rischiare di fare dei chilometri in più ci racconta tutto dei nuovi lavori insomma anche di questi cantieri. Mario Fortunato Ancora lavori e possibili disagi alla circolazione non si fermano gli interventi sul tratto ovest della tangenziale di Pavia che subirà delle chiusure durante il giorno la mercoledì a venerdì lo svincolo di Bereguardo rimarrà chiuso dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio gli interventi riguardano il tratto di strada che dal raccordo porta in tangenziale in direzione sud non si potrà quindi andare verso San Martino Siccomario ma seguire le indicazioni alternative oppure uscire in via Riviera l'azienda Milano Serravalle competente della tratta indica come percorso consigliato quello che porta allo svincolo degli istituti universitari per potersi mettere nella carreggiata sud i lavori programmati da diverso tempo riguardano la manutenzione dei manufatti e la sistemazione della scarpata l'opera di riqualificazione sulle arterie della provincia di Pavia riguarderà anche l'autostrada in particolare nella notte tra mercoledì e giovedì verrà chiuso il tratto compreso tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano nella notte tra giovedì e venerdì invece gli operai saranno al lavoro in direzione opposta sarà quindi chiuso il tratto di strada tra Binasco e Groppello Cairoli in direzione di Genova il traffico sarà deviato sulla ex statale dei Giovi con ingresso in autostrada dal casello di Groppello era l'ultimo servizio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale come sempre grazie per averci seguito io vi ricordo però questa sera itinerari Stefano Calvi ci porta a Rosasco grazie ancora per averci seguito una buona serata grazie a tutti